Vi servono crediti? FIFA15CoinSmile troverete il link e il codice coupon qui in descrizione sono veloci, affidabili ed economici noi abbiamo l'ho perso ? ragazzi si porca ch.. ho trovato amariago mont journey in un pacchetto ragazzi in un pacchetto primo proprietario ti faccio vedere che sono io il suo primo monetario. gli continuo indietro accolà accolo la cosi faccio vedere i dettagli così così di contatto ragazzi primo proprietario primo proprietario sto aprendo pacchetti random su un account secondario E mi esce proprio lui Mario Ghost Vediamo quanto potrebbe costare Dovrebbe stare su un milione circa Almeno quando mi ricordo Un milione ragazzi Un milione Paco opening Un milione Dopo quello di Bale Vabbè comunque mamma mia Che pacco opening Che pacchetto Non stavo registrando purtroppo Perché Volevo aprirli così senza registrare Forse ho fatto anche bene a non registrare Perché quando registro non trovo un cazzo Però non potete immaginare La mia reazione quando è uscito Gozo fatto mamma mia Ho gridato E' venuto passato un vecchietto Ma che cazzo stai dicendo Mamma mia Gozo in a pack Ragazzi Per questo mini video Voglio almeno 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 Mi piace Per Goz If In a pack Goz If In a pack Goz Non smetterò mai di dirlo ragazzi Mamma mia Mamma mia Mamma mia 87 di overhaul 81 velocità 91 85 passaggio Mamma mia Non stavo neanche guardando Quando ho aperto il pacco Perché stava qui Quando ho aperto il pacchetto Stava qui E Shbam Shbam Ho visto la carta nera Ho visto 87 Goz ragazzi Goz Mamma mia Se ero messi Se ero messi Mamma mia Mamma mia No no C'è cazzo Vabbè Comunque Dai Vi saluto Prossima Cazzo La prossima